benvenuti a tutti sul mio canale tutto dal web antonella clerici scoppia in lacrime anna moroni le ha fatto una sorpresa è sempre mezzogiorno antonella clerici infatti come vediamo da questa meravigliosa immagine si commuove vedendo arrivare dallo studio di sempre mezzogiorno una delle colonne portanti dei programmi ma da qualche tempo lontana dalla tv ossia anna moroni l'indimenticabile le due come vediamo da queste immagini si abbracciano e la conduttrice non riesce a trattenere le lacrime di felicità ecco le parole di antonella al suo arrivo annina non mi aspettavo di vederti ma che bello sono contenta che sei venuta non mi aspettavo dove ti hanno nascosto pensa che ho sentito la tua voce e ho pensato oh come la prima volta ma adesso vieni qui deve aiutarmi che bello anna anna moroni l'indimenticabile il suo motto che diceva sempre ad antonella ti sei lavata le mani tesoro la scelta di lasciare il programma di anna moroni fu dettata dall'addio proprio di antonella clerici alla quale succedette poi il posto a elisa isoardi e da quel momento è apparso in tv sporadicamente l'ultima volta infatti che era stata chiamata il rai è stata proprio durante il nuovo programma di antonella per l'appunto è sempre mezzogiorno dove fu ospite una settimana dopodiché si era ritirata se non per un breve comparsa uno mattina con massimiliano ossini ovviamente anna ha onetà e ha deciso di rilassarsi e non stressarsi magari con la conduzione di un programma in diretta dove era sempre presente e voi che cosa ne pensate di questo meraviglioso regalo che antonella ha ricevuto in diretta scrivetemelo giù nei commenti lascia un mio like se ti va e iscriviti al mio canale io ti aspetto per questo ma tanti altri prossimi video ciao 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 Grazie a tutti